gentili telespettatori buona giornata le bollette alle stelle per famiglie e imprese stanno portando a una situazione economica abbastanza pesante e per molti insostenibile mentre la famiglia può tagliare le bollette per utilizzare i soldi per mangiare l'azienda invece se taglia le bollette deve chiudere perché non può più andare avanti con la produzione e così si fanno strada delle idee tipo non paghiamo più le bollette ecco le bollette sono triplicate nel migliore delle ipotesi bollette di gas luce 5 addirittura 6 7 volte maggiori rispetto al 2021 e così tra ristoratori i panettieri i pasticceri i commercianti insomma e persino tra le famiglie italiane c'è l'idea dice ma se noi non pagassimo più ecco e così le fatture dicono per esempio i commercianti che abbiamo trovato in tasca sono batosti da 40.000 euro 100.000 300.000 euro l'una non all'anno ma l'una da pagare subito sennò poi ti staccano anche l'utenza chi ce la fa a pagare delle cifre così alte con tutta la buona volontà dicono gli imprenditori ti ci metti tutto il senso di responsabilità e la buona volontà però come fai a pagarle se ti arriva una bolletta da 40.000 euro quando prima ne pagavi magari 5.000 6.000 e ti arriva 40.000 con tutta la buona volontà che ci puoi mettere e dove li prendi i soldi per pagare queste bollette che fai dice un imprenditore per pagare la bolletta licenzi i dipendenti oppure rivolti tutti gli aumenti sul costo finale e quindi sui clienti così il rischio di non rivederli più ad esempio c'hai una pizza 5 euro la volta dopo che vai con la famiglia ti trovi la pizza minimo 10 euro e vai a raddoppiare la tua spesa e il cliente magari non viene più c'è chi dice no poi a queste condizioni non sborso più neanche un euro e così molti commercianti albergatori che ha delle grosse strutture i costi sono diventati ormai insostenibili c'è anche chi pensa di mettere il condizionatore a pagamento la camera costa 100 euro se vuoi il condizionatore sono 115 al giorno ecco così federalberghi lancia l'allarme proprio su questi aumenti che sono ormai insostenibili i problemi rischiano di essere insormontabili e qualcuno potrebbe rifiutarsi di pagare dice beh io non pago più la bolletta da 40 50 100 mila euro perché devo mandare avanti l'azienda quindi o pago la se pago la bolletta chiudo allora non pago ma poi quando non paghi il problema è che potrebbe subentrare il fallimento potrebbero arrivare a staccarti definitivamente la luce e così ad esempio ci sono federalberghi porta al punto di alcuni di alcuni hotel che pagavano ad esempio 1263 euro di di bolletta e nel 2021 7870 ad oggi quindi da 1263 a 7870 un rincaro di circa 6 7 volte in più ecco sono di quelle stangate che poi gli imprenditori non si rialzano più così comincia a ingrossarsi il movimento dei disubbidienti della bolletta prima c'è stato il covid che ha bastonato metaforicamente le aziende quindi il covid che ha creato dei grossissimi problemi all'economia e alle aziende dopo il covid arrivano le bollette insomma le restrizioni hanno provocato comunque degli enormi ammanchi di entrate economiche nel settore del turismo che si stava riprendendo ma con le super bollette comincia di nuovo ad avere dei seri problemi bene stanno organizzando anche delle manifestazioni a roma sotto la sede dell'enel gli slogan basta chiacchiere dice stiamo ricevendo le bollette dal 2021 e quelle del 2022 anche i contratti di servizio è tutto aumentato in maniera assolutamente spropositata napoli per esempio stanno cominciando ad organizzarsi dare appuntamento con in mano l'ultima bolletta che ha ricevuto nell'altra un cerino per simbolicamente far vedere io non le pago non pago le fatture non possiamo pagare dicono gli organizzatori siamo stanchi delle promesse a vuoto ma in realtà non ci sono neanche promesse a vuoto io non ho visto promesse a vuoto il governo ha fatto dei tagli alle bollette per alcuni mesi ma non ho visto promesse a vuoto non c'è nessuno che ha promesso di far tornare le bollette come prima anche perché è impossibile fare una promessa del genere e così adesso a settembre baristi negozianti ristoratori da Ancona a Cagliari a Ferrara a Padova a Brescia gli esercenti si stanno raggruppando per cercare di capire come fare una protesta perché il punto è questo si fanno le proteste non paghiamo non paghiamo poi magari i commercianti dicono non paghiamo ma la maggior parte poi paga per paura che gli vadano a tagliare l'utenza perché dice io non pago cosa possono farmi non paghi la luce non paghi il gas ti tagliano luce e gas e a quel punto non hai non hai modo di recuperarti perché poi devi pagare il riallaccio della luce il riallaccio del gas e la multa gli interessi alla fine il non pagare che cosa porta che devi pagarlo poi dopo con gli interessi non non è che ci sarà qualcuno che vi cancella le bollette diciamo che c'è Salvini populista che sta parlando di Equitalia ma sono promesse elettorali non pagare la luce aspettando che arrivi un Salvini populista a dirti non ti preoccupare io ti condono tutto per chi ha un'attività pensare che di poter seguire questa strada è un po curioso grazie a tutti e arrivederci a presto